Il cubo di Rubik, che voglio imparare a farlo, sono iniziato a fare questo, questo lato, ma non mi era mai successo questo, guardate, cioè qua è quasi tutto fatto, ma ho questi angoli sbagliati, come mincia si fa quando da qua mangiate. Comunque, il solito appuntamento con i due suoi pappi, il primo è quello del podcast, per sentire un approfondimento della puntata di ieri di Sanremo, con 26 cover, non finivano mai, e hanno cantato tutti quanti, comunque in 20 minuti ho sentito un riassunto su Spotify. Altrimenti, se volete vedere le nostre brutte facce, la seconda classifica generale c'è Willy Bello, ce l'ho fatta, non è vera, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda. Samsung Galaxy Siamo già pazzi del fatto che è appena un cartello la porta così scritta in intervista in corso, perché l'hai già detto, grazie. Ma soprattutto un ventilatore, ma perché? Pagando. Ah, vabbè. È fermo però se no. Lea, mettiteli, dai, ma non ti piace. Giamprucca, cioè perde l'utilizzo della parola quando sei di me. Giamprucca.